In previsione della gara di domenica contro il Rieti, maxi turnover per Guido Di Fabio. Oltre agli squalificati Terrenzio e Loviso, fuori dagli 11 titolari fagioli De Gidio, Olivi e Natale. Esordio dal primo minuto tra i pali per Oliveri, mentre al centro della difesa tocca a Ferri. In avanti, Spazio, Sbarbati, Manari e Foglia. Gli elpidienzi che vivono uno dei momenti peggiori in quarta serie si presentano con una squadra imbottita di under. Nella formazione del tecnico 13 ci sono dal primo minuto Bordi e Spagna. Fischia Giovanni Agostoni di Milano. In un primo tempo non spettacolare dove la squadra abruzzese ha faticato a scardinare la difesa a Marchigiana. La prima occasione capita ai neroverdi con Sbarbati. L'ex monter Giorgio anticipa di netto Aliffi ma poi davanti a Cavaliere calcia debole. Timidamente si affacciano in avanti anche gli ospiti. Dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, la sfera arriva a Orazzi che conclude centralmente. La squadra del tecnico Di Fabio fa molto possesso palla ma non trova il pertugio vincente. Allora Foglia si mette in solitaria e dalla distanza prova a calciare ma il pallone termina alto. Ancora Castelnuovo al 36esimo con Sbarbati che si traveste da uomo assist ma l'ex della sfida Manari non arriva per un soffio. L'ultima occasione stavolta capita sì sui piedi di Sbarbati. L'attaccante smarcato da Ferri viene contratto però in angolo. Nella ripresa come accaduto nella prima frazione gli ospiti ci provano su calcio piazzato con il neo entrato Alessio Palladini. Oliveri è attento e mette in angolo. Il porto a Santelpidio prova a sorprendere il Castelnuovo e si proietta in avanti con Spagna che impegna severamente Oliveri poi chiusura provvidenziale di Morganti in corner. Da qui in avanti monologo nero-verde. Il primo a provarci è Degidio da poco in campo che trova in Sbarbati un alleato importante ma il tiro è fuori. Alla mezz'ora opportunità per Emili da poco in campo ma la sua conclusione da fuori è riparata da Cavaliere. Continuano a premere i nero-verdi e Degidio ancora lui ha l'opportunità di sbloccare il match ma anche lui deve fare i conti con la difesa ospite. Al trentacinquesimo il porto a Santelpidio resta in dieci per l'espulsione di Zira, Reo, di aver colpito un avversario al volto. Sulla punizione seguente di Ruocco fa la barba al palo alla sinistra di Cavaliere. Gli ospiti non pervenuti nella ripresa rischiano di capitolare al quarantesimo ma né Degidio né Emili trovano il pertugio giusto. Che non è giornata lo si evince nel recupero quando la conclusione di Sbarbati sbatte sul palo. Al triplice fischio finale festa in casa il Pidienze per il punto guadagnato. Rammarico in casa Terramana per non aver approfittato di questa sfida non proibitiva domenica prossima a gara di cartello contro i Rieti. Soprattutto la partita che poteva fare contro questa corazzata, una squadra importante pur avendo tanti ragazzi però di grande qualità. Quindi io voglio fare prima di tutto i complimenti a loro perché veramente abbiamo visto una squadra. Noi abbiamo fatto una prestazione importante, naturalmente qui devi venire e devi rischiare. Per noi era importante perché oggi tornava in panchina il nostro mister e si è visto perché tanto si è visto. Perché comunque sia una cosa avere in panchina il mister che guida la squadra è una cosa non avercelo. E' parlare con le cuffie insomma. Quindi noi andiamo via non tanto con il punto quanto con una prestazione che viene dopo tre partite dove siamo sempre cresciuti. Ecco direttore, nei mesi scorsi anche tanti problemi in casa Porto Sant'Elpidio, poi il suo arrivo. Si sta cercando di riorganizzarsi anche per il futuro? Soprattutto per il futuro. Poi dopo se questi ragazzi danno queste risposte e ci permettono di presentarci dignitosamente ogni partita e quindi crescono in maniera esponenziale come stanno facendo, noi ci potremmo trovare non so in che categoria con una squadra quasi pronta per affrontare il prossimo campionato. Ho detto a tutti, alla mia squadra, a voi, che sarebbe stata la partita più difficile della stagione. Anche ai miei ragazzi ho detto che per vincere la partita non la vincevamo semplicemente perché loro sono ultimi in classifica, ma ci dovevamo mettere del nostro e quel nostro che ci abbiamo messo non è bastato per vincere la partita. Come hai detto tu sicuramente si poteva fare molto di più. Come pensavi a questo tipo di partita anche a questa squadra che oggi forse non ha espresso il miglior calcio che ci ha abituato in queste settimane? Sì, abbiamo cambiato qualcosa per esigenze proprio del fatto che magari qualcuno era stanco dopo una partita fatta come quella di domenica a Tolentino, in un campo pesante, c'era qualche assenza, quindi abbiamo dovuto cambiare qualcosa, anche modulo di gioco inizialmente, e quindi evidentemente mi assumo tutte le responsabilità perché non siamo riusciti a fare quello che facciamo di solito. Ecco, mister, lei ha sempre elogiato il gruppo, ma quanto in questa squadra è imprescindibile una figura come Massimo Loviso? No, ma io sì, è vero, confermo sempre quello che dico perché i ragazzi si allenano sempre con grande intensità, ma anche oggi non posso lesinare l'impegno a nessuno perché ci mancherebbe, hanno dato tutto quello che avevano, però sì, sicuramente sono giocatori importanti a livello di esperienza, ma avevamo sicuramente le possibilità, dovevamo dare di più per battere il Porto Sant'Elpidio, non ci siamo riusciti solo e esclusivamente per colpa nostra, non perché mancava Loviso.